Ciao a tutti amici dei gemelli, benvenuti e bentornati, io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene. Mostrami gemelli, tendenze energetiche generali per l'estate 2023. Wow, abbiamo la carta della temperanza amici dei gemelli. Quindi periodo tranquillo, calmo, pacifico, probabilmente un periodo di guarigione, di ribilanciamento di quello che è la mente e il cuore. Quando c'è la carta della temperanza è sempre un indicatore di pazienza, quindi a me, diciamo io, quando vedo questa carta come una sensazione di calma, di rallentamento dei tempi, diciamo. Andiamo a vedere di che cosa si tratta con i tarocchi. Io intanto, come sempre, vi ricordo che le letture sono generali, sono fatte per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuona nulla o se per caso voleste completare il messaggio, vi consiglio di ascoltare l'ascendente, il segno lunare o venere. E se non sapete come unire questi oroscopi, trovate un video sotto che è una guida e vi spiega come farlo. Sempre nella descrizione trovate anche la mia e-mail in caso vogliate contattarmi e altri link a video che potrebbero interessarvi. Bene, andiamo a vedere. Iniziamo con un fante di coppe. La regina di coppe. Un otto di bastoni. Un sei di bastoni. Un sei di coppe. Asso di bastoni. Dieci di coppe. Re di bastoni. Eremita e matto. Un sei di coppe. Un sei di coppe. Un sei di coppe. Un sei di coppe. Ragazzi. In questa situazione o relazione, diciamo che a cui state pensando, perché io lo so che già state pensando a qualcuno o a qualcosa in particolare per quello che riguarda questa estate, è come se ci fosse una sorta di cambio delle energie. Cioè, è come se ci fosse una sorta di ringiovanimento, mi verrebbe da dire, delle energie, della comunicazione, di quello che potrebbe essere un progetto, una relazione. potrebbero esserci nuove idee, se per esempio per voi fosse una situazione lavorativa. E' interessante, sto notando adesso perché avete coppe, 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 coppe e bastoni, 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 bastoni e due arcani maggiori. C'è solo passione, fuoco e acqua, sentimenti, emozioni. Quindi, è per quello probabilmente che vi dicono di tenere pazienza, perché sento come un ribollio in tutta questa energia estiva, diciamo così, un ribollire. Non so se si dica ribollio, però vabbè, un ribollire. Andiamo a vedere carta per carta, ragazzi. Andiamo a vedere questo fante di coppe. Abbiamo un re di bastoni, nuovamente, che era già uscito qui, l'eremita, che è una carta che è già uscita, e il fante di coppe, che è uscito. Caspita, si sono ripetute le stesse energie, praticamente. Dunque, ragazzi, io qui ho come la sensazione che il fante di coppe potrebbe essere un'altra persona, in effetti. Ed è come se ci fosse, come vi dicevo, una sorta di ringiovanimento della situazione, della relazione. Potrebbe fare riferimento a delle nuove idee. Sì, perché comunque ce l'avete due volte. Ma qui ho come la sensazione che si ha un lasciarsi fluire. Fate attenzione, perché con il re di bastoni, quando è il contrario, ci potrebbe essere una fase dove, diciamo, vi fate un po' troppo dominare dalle facili emozioni. Non prendete mai decisioni quando siete in un down emotivo o in un up emotivo. Dovreste prenderle le decisioni importanti della vita quando siete in una fase di calma. Andiamo a vedere la regina di coppe. Abbiamo un dieci di pentacoli. La carta del giudizio e un re di spade. E' come, ragazzi, se se ne andassero certe regole, certi contratti, certi programmi. Per qualcuno qui ho come la sensazione che potrebbero cambiare le persone su cui vi appoggiate. O le persone su cui fare affidamento. Andiamo a vedere l'otto di bastoni. Asso di coppe. Sette di coppe. Allora, per molte persone questo fante di coppe potrebbe essere una nuova, un nuovo incontro di tipo romantico, un nuovo amore, un nuovo affetto e anche un figlio, vi dirò. Lo sento per pochissimi, è il figlio, però per qualcuno ci potrebbe stare, in effetti. Sì, perché poi ho anche queste carte qui, il mondo. Andiamo a vedere se li bastoni. Ragazzi, qui se... Se siete in una fase, come vi dicevo prima, di cambio energetico, una persona piuttosto che un'altra, una situazione piuttosto che un'altra, un lavoro piuttosto che un altro, io credo che voi dobbiate prendere questo cambio come una nuova opportunità, un nuovo modo di vedere le cose in relazione a voi, il fatto che magari la vibrazione che avete sta cambiando e semplicemente non vibrate più con le persone di prima, perché ho come la sensazione che voi vivrete questa cosa come se fosse un fallimento, ma è più una vostra idea, secondo me, è più un vostro modo di percepire la cosa e per quello credo che avete la temperanza, perché dovete riportare in equilibrio magari quelle che erano le aspettative, quello che erano i vostri obiettivi con quello che è magari la realtà. Andiamo a vedere questo sei di coppe, abbiamo un otto di coppe, è un sei di bastoni nuovamente. Sì, vi dovete allontanare da quello che è l'idea di sogno che voi avevate. Il sei di coppe è sempre una carta che parla di sogno romantico, quindi è quell'idea dell'amore che hanno gli adolescenti, quindi dove vedono tutto rosa, che romanticizzano tutto. C'è bisogno di ritrovare un attimino di realtà in questo tipo di sogni, in questo tipo di prospettiva. In effetti con il fante di coppe vi ho detto, fate attenzione a non farvi prendere dalle facili emozioni, soprattutto se conoscete questa persona nuova di cui ci parla l'asso di coppe, se c'è questo incontro insomma. Andiamo a vedere l'asso di bastoni, perché qui il punto è che fondamentalmente vi dicono di fare qualcosa, di creare una comunicazione, di muovervi. E infatti abbiamo anche la carta della forza e dieci di spade. Ormai il ciclo è finito, dieci e uno, quindi è finito un ciclo e dovete iniziare un altro, semplicemente agendo, facendo un movimento con intenzione. Tenete presente che avete due assi? E questo può anche parlare di quello che è un incontro intimo. Ve ne metto qua sotto. Voglio andare a vedere questo dieci di coppe, ragazzi, perché comunque è sull'ultima linea della lettura e comunque è una carta di compimento, di appagamento, di felicità coniugale proprio. Avete un'altra volta l'altro di bastoni. Ragazzi, io credo che sia una sorta di messaggio che vi dice comunicate quello che voi volete per sentirvi appagati, comunicate quello che vi manca. Come vi dicevo prima, rigenerate la relazione o la situazione in cui siete adesso. Se per caso ci sono certe dinamiche un po' stantie, rompete queste dinamiche, che sia con la comunicazione, che sia semplicemente con il cambiare il modo di vedere voi la situazione o voi stessi, o la persona, perché comunque qui abbiamo due volte quest'ora di bastoni e potrebbe proprio essere una persona, però lo sento per pochi, nel senso che per molte persone, come è la sensazione che vi dicano, prendete in mano voi le redini della vostra vita, andate verso i vostri obiettivi, fate qualcosa di concreto per rigenerare la situazione o la relazione. Andiamo a vedere questo re di bastoni, due di coppe, mondo e sacerdotessa. Guardate ragazzi, io sento che arriverete... Allora, se il re di bastoni rappresenta una persona, qui ci potrebbe veramente essere un compromesso, la nascita di questo nuovo amore, come vi dicevo prima, potrebbe essere un nuovo progetto, potrebbe essere un bambino per qualcuno, c'è comunque un incontro nuovo, c'è come aria nuova. Se avete già una relazione potrebbe essere un refresh all'interno della relazione, ma per molti sento che è un cambio, è un cambio delle regole, cambio di persona, cambio degli accordi. Andiamo a vedere le remita. Perché l'eremita è sempre una carta che vi esorta a ricercare la vostra verità. Abbiamo l'appeso, la torre, la luna e il mago. Wow, quattro arcani maggiori ragazzi! Qua avete bisogno di vedere le cose da un altro punto di vista. c'è la necessità di ridimensionare un pochettino l'ego, vi dicevo, qua ci sono dei sogni romantici che hanno bisogno di essere un po' rivisitati, perché c'è anche la luna, ci sono delle proiezioni, ci sono delle cose che si vedono solo fino a metà. E con la carta del mago è come se qualcuno stesse cercando di manifestare un certo tipo di realtà, ma non riuscisse a causa di queste convinzioni limitanti, di queste proiezioni. Quindi la carta del mago è un invito a ricercare la propria verità, che cosa è valido per voi. Voi avete tutte le esperienze, le conoscenze e anche le capacità introspettive per riuscire ad arrivare a quello che è la vostra essenza. E vi dirò che dopo avete anche la carta del matto. Il matto è una carta che parla di istinto puro, di purezza, è la, come vi posso dire, l'energia propulsiva. Parla di nuovi inizi, parla di nuove avventure e parla di avere fiducia. In questo caso sento in voi stessi. E anche nella vita comunque, perché tutto quello che ci succede, in qualche modo ci succede per un disegno divino. E ricordiamoci sempre che siamo noi, che prima di reincarnarci abbiamo scelto in che famiglia reincarnarci, in che zona geografica reincarnarci, in che stato sociale reincarnarci e via dicendo. Quindi ce lo siamo un po' scelti, no? Per cui se abbiamo scelto questo percorso è perché ci porta a imparare determinate cose. Per qualcuno, ragazzi, ci potrebbero essere dei viaggi, magari vi offrono uno spostamento, un viaggio. E per poche persone può essere un cambio di residenza. Magari momentaneo, non definitivo. Fatemi sapere poi come vi risuona, perché le chiavi di lettura sono veramente tante. Spero di avervi dato degli spunti. Bene, andiamo a vedere ancora una fatina. Allora, queste due fatine vi ricordano. La prima vi dice di ricordare che più mani sono meglio di una, sia per un lavoro di tipo pratico, ma soprattutto per un lavoro di tipo spirituale. E questa carta vi dice di restare attenti ai segni della natura. Dice che la natura ci parla continuamente, abbiamo solo bisogno di aprire il cuore e la mente per riuscire a cogliere questi messaggi. Amici dei gemelli, questo è quello che avevo per voi. Spero che comunque la lettura vi sia stata utile, perlomeno per darvi qualche spunto, per capire più o meno come navigare le energie del prossimo periodo. Fatemelo sapere con un like, un commento, una condivisione, la vostra iscrizione. Se poi volete anche sostenere attivamente il canale, potete abbonarvi o fare una donazione. Le fasce di abbonamento sono due. Quella più bassa è un semplice aiuto al canale e quella più alta vi dà accesso ai video di crescita personale e spirituale. Io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!